come tutta la recitazione degli altri, oltre al fatto che questi mettono per tutti i cattivori, tutti i vestiti che a cui non si avisce bene, come mai hanno fatto un recidio del genere per cercare di non perdere i soldi, ma non bastava molto meno, è un casino incredibile e il ricredo che il cattivo instantaneo interno si scava dopo due secondi, ma qui siamo pronti all'intolleranza verso ciò che è la mancanza di cinema da parte del sottoscritto, c'è ogni volta che guardavo in qualcuna mi sembrava di vedere una brutta sitcoma, nient'altro ogni volta che si parava una battuta mi sembrava veramente di essere tornato indietro nei trent'anni a un certo tipo di voglia di voler fare del cinema comico, come esplorando l'azione in maniera così sgangherata, così stupicciolata, senza un momento in cui non ti viene la voglia di credere, appedate nel culo chiunque abbia lavorato a questo film, appedate forti perché il culo diventa bello rosso rosso, è una scelta di Mark Emmer, ma qui siamo riconosciuti veramente a qualcosa di incredibile, Mark Emmer è veramente una martellata che si parla di noi, io non riesco più a capire come si fanno a produrre queste cose, come si fanno a portare i macchini di pubblico.